Grazie Walter. Oggi la Rialpi avrebbe compiuto 63 anni. Oggi avrebbe festeggiato Lieta il suo compleanno con la famiglia, gli amici, i compagni di lavoro. Oggi, 24 maggio, ma non potrà, perché la ragazza che voleva raccontare l'inferno è stata giustiziata 30 anni fa con il suo collega Miran Rovatin. E a distanza di così tanto tempo attendiamo ancora verità e giustizia. Buongiorno a tutte e a tutti. Con piacere ed emozione vi do il benvenuto qui alla Camera dei Deputati. Sarà una mattinata intensa, ricca di momenti che ci toccheranno, di interventi importanti e autorevoli, di coinvolgenti proiezioni, come quella a cui abbiamo appena assistito, per chiudere poi con la consegna dei riconoscimenti agli studenti per i lavori realizzati nel solco del progetto Una Stella per Ilaria, pensato e promosso da tanti organismi e associazioni a cominciare dalla comunità Noi non archiviamo Ilaria Alpi. Per questo vi ruberò pochissimi minuti, cominciando con l'esprimere la mia gratitudine agli organizzatori per la scelta della Camera dei Deputati. Perché se è vero che il progetto Una Stella per Ilaria vuole essere, come avete scritto nel manifesto di presentazione, un'occasione perché la memoria non sia soltanto consuetudine, ma responsabilità a far sì che le persone che muoiono non cadano nell'oblio e continuino ad illuminarci, è altrettanto vero che parliamo di diritti e di libertà. Il diritto all'informazione e la libertà di stampa che sono pilastri della vita democratica. E il Parlamento è la casa della democrazia. Magari può apparire un'espressione fuori moda e magari c'è anche chi pensa che sia arrivata l'ora di ammaccarla un po' questa casa, ma credo proprio che non vedranno realizzato il loro disegno. Però io credo fermamente che non si debba rinunciare a usare le parole giuste, anche perché, e nessuno meglio di voi lo sa che delle parole siete frequentatori assidui, le parole pronunciate, soprattutto quelle taciute, danno forma alle nostre convinzioni, modellano l'opinione generale, sono l'aria che respira la comunità. E sappiamo tutti quanto ci sia bisogno di aria buona in questa stagione. Il Parlamento, lo dico ancora una volta, è la casa della democrazia. Dobbiamo dirlo e ripeterlo con nettezza e senza incomprensibili timidezze. Così come la Costituzione, con quel magistrale articolo 21 di cui siamo richiamati a chiedere il rispetto pieno di tanto in tanto, è lo scrigno che contiene i fondamenti della nostra convivenza fondata sulla libertà, la giustizia, il rispetto dei diritti di ogni persona. Il rispetto della libertà di stampa e della sua autonomia e indipendenza è un termometro dello stato di salute della democrazia, conquista delle società libere da tutelare continuamente. Ed è anche per questo che è certamente una buona notizia la recente approvazione al Parlamento europeo, con larghissima maggioranza, del Media Freedom Act, che prende di mira proprio il rischio di controllo dei governi sull'informazione, tutela il pluralismo e chiede trasparenza delle proprietà dei mezzi di comunicazione. Gentili ospiti, le stragi sono tutte un mistero, è il titolo del recente libro di Benedetta Tobagi. Racconta dei numerosi tragici episodi che hanno insanguinato la storia italiana nel secondo dopoguerra, miettendo centinaia di vittime innocenti e delle loro controverse storie di inchieste infinite e sentenze ancora attese. Ma è un mistero dello stesso tipo anche l'assassinio di Ilaria Alpi e Minar Rovatin quel 20 marzo del 1994 in Somalia, a due passi dall'ambasciata italiana a Mogadiscio. Mistero nauseabondo perché ruota attorno al traffico illegale di rifiuti tossici e di armi, perché vede le missioni umanitarie e la nostra cooperazione internazionale usate per torbi di affari e certo non da ultimo perché emana quel fettore insopportabile di depistaggio, missioni, buchi neri, manipolazioni, processi interminabili e inconcludenti. Perché ancora non conosciamo assassini e mandanti dell'assassinio di Ilaria e Miran. Ancora la verità è negata e la giustizia è impedita. È una ferita che riguarda tutti noi, l'intera società. Ed è grazie all'impegno indomito di Luciana e Giorgio Alpi, i suoi genitori che si sono spesi fino all'ultimo giorno, alle tante associazioni rappresentate anche oggi, a colleghi e amici di Ilaria che le inchieste non sono state archiviate, come in più occasioni era stato richiesto. Sono certa che anche l'iniziativa di oggi, con il coinvolgimento di tante scuole, docenti, ragazzi e le loro famiglie, contribuirà a tenere alta e forte la pressione per fare piena luce sull'assassinio di Ilaria e Miran. Buon lavoro. Grazie ancora. Valtela.